chi è? professor siamo Nicola Cardenda e Mattia e che ci fate voi qua? come è stato professor? se non fa buono fatto, capite che fine faccio? ancora? ma tu stai zitto o no? tieni trent'anni, non tieni una fatica, non tieni una femma no? allora tu non hai capito, io mi sono rotto le palle fa' sta vita per questo ci servirebbe il vostro aiuto abbiamo bisogno della copia di un quadro se ti vuoi cosa pensavo, non mi abbiava fissa ma si spagnolo